Benvenute e benvenuti a The Match, professionisti in campo, manager in gioco. Brattoni diceva, si può scoprire molto di più di una persona giocandoci per un'ora che in un anno di conversazione. Sono Germano Lanzoni e per scoprire i manager che fanno la differenza li ho invitati a giocare con me. La vera sfida è affrontare le sfide. Oggi giocheranno con me... Mi chiamo Anna Migliorati, Federico Barbaglia, Paola Vitale, mio nome è Leandro Pecchia, Laura Gangitano, Alessandro Testa, Paola Bozza. Sono una persona determinata a cui piace godersi la vita. Una persona che vuole rilasciare risultati. Credo una persona molto umile, cioè che si ricorda esattamente da dove vede. Una persona con tanta curiosità. Amo le persone coraggiose. Persona empatica, appassionata di tutto ciò che coinvolge e riguarda la vita degli altri. Mi piace mettermi in gioco, trovarmi in situazioni nuove perché penso che posso sempre imparare, c'è tanto da imparare. La vera sfida è affrontare le sfide. Una cosa prima di iniziare, prima di lanciare la pallina, ho scoperto che l'anagramma della parola manager è Germana. Ma va che roba strana. Cioè il mio lato femminile è pronto per gestire la mia azienda. Il collo maschile fa i disastri. Questo mi ricordo personalmente. Prima pallina, prima domanda, la faccio a te a Paola. Dopodiché potete scatenare qualunque istinto calcistico, il calcio pallile che avete dentro. Cosa deve fare oggi un manager? Pronti? Vai, via! Tantissime cose. Partiamo dall'agenda, che è un'agenda ormai assurda, spalmata su n argomenti nella giornata, quindi si salta da un argomento all'altro. Bisogna avere la capacità di mantenere lucidità e determinazione. Un leader, io penso che debba avere prima di tutto visione. Deve essere anche in grado di riuscire a trasmettere questa visione, condividerla. Scusa, no, 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 non volevo mancare il piede di rispetto, perché c'è stato un vuoto pazzesco di tensione. Oltre alla vision, dicevi? Oltre alla vision, secondo me, un manager deve avere carisma. Va bene, vediamo chi ha più carisma su questa pallina. E poi, per non finire, anche il team. Gol! Il team per un manager è fondamentale. È un buon team con te, eh? Sì, ottimo, ottimo. Nulla da dire. Abbiamo preso due gol. Vabbè, ma questo, cioè, chi è che non commette errori durante il proprio percorso? Attacco, difesa, così è il campo di gioco, no? Eh, Paoletta, quali sono le strategie di difesa per valorizzare i propri valori, il proprio vision, come diceva, e le strategie di attacco, cioè, per raggiungere gli obiettivi. Se volete, vi do due palline, anche, per due domande. Pronta? Strategia di difesa. Bellissima. Ecco, io, velocissimi. E infatti, come abbiamo iniziato a giocare? Ci siamo chiesti, ci siamo chiesti, che ruolo preferisci? Attacco o difesa? E la strategia è un po' questa, è capire i punti di forza, ma anche le vulnerabilità di un manager, così come quella di un team, e metterle in evidenza, non per puntare il dito, ma proprio per far sì che i miei punti di vulnerabilità diventano i punti di forza del mio team, viceversa poi nel team, quelli che sono i punti di forza di qualcuno devono aiutare l'intero team ad andare avanti. La famosa armonizzazione che rende l'azienda vincente. Il gioco è interessante. Oh! Mi gavano. Questa strategia tra me e Leandro funziona perfettamente. Colgo l'occasione, no? Per questa azione tipica, una palla, un'azione, un gol. Fede, è ancora possibile che esista una figura unica che gestisce tutta l'azienda? Io ritorno a quello che ha detto Paola, che non parlo tanto di gestione, ma nella capacità di dare un indirizzo, condividere, diciamo, questo indirizzo con gli altri membri del gruppo di lavoro, e riuscire, diciamo, a stabilire questa rotta, fa sì che le persone siano in grado poi di seguire quello che il leader dice. Sei troppo concentrato. Rispondimi anche giocando. Oh, è vero liso. È vero liso. Quindi c'è coerenza tra quello che dici e quello che fai, no? È vero. La fiducia è tutto. La fiducia è la base su cui tu costruisci il team. È la fiducia che devono avere i tuoi per te, ma la fiducia che tu hai per loro. È un concetto di reciprocità. E devi anche creare dei meccanismi affinché poi vai a tastare il polso di questa fiducia. Quindi sicuramente è un ambiente sereno, ti devono poter dire quello che vogliono, altrimenti poi se c'è un errore tu non lo saprai, non sai perché, non sai per come. E ci vuole tantissima trasparenza. Hai un anezzo su questa cosa? I miei precedenti dottorandi adesso sono P.I. dei loro gruppi. Luis Montessino in Messico, Tim è di Hong Kong. Lo sai che puoi dire qualunque nuove io ti credo? Vedi? La fiducia è tutta. Non hai il tempo di controllare tutto quello che dico, devi per forza fidare. Questa è l'ultima pallina. Signa questo? Paoletta, tenta l'attacco. Allora recupera la pallina. Leandro! Illumina il cacciovalilla! Cambio per la prima squadra, entra Alessandro, gol! Allora te domanda a Jolly, cosa vuol dire fare il manager? Una cosa che il manager deve avere è il desiderio di realizzare le cose. Perché al di là della vision, al di là della capacità di comunicazione, ci vuole una spinta che superi gli ostacoli utilizzati a superare. Vedere le cose che si attuano. Scusa, posso? Posso farò una cosa che non si deve? Come si chiama questo? Rollar. Ma a proposito di regole, ci sono le regole. Oggi come funziona secondo te il sistema in Italia nei confronti del manager? Le regole sono essenziali anche solo per giocare qua, se non ci siamo dati delle regole, non possiamo giocare. Però secondo me esiste anche un altro livello di regole, quello che ciascun gruppo poi si dà al suo interno. E quelle sono altrettanto importanti, perché se io do delle regole al gruppo che gestisco, poi è tutto più chiaro e più semplice. Insieme all'etica. Considerando che l'essere umano, l'etica, non è che ce l'hanno compreso nel biglietto, no? Cioè è un raggiungimento di livello. Bisogna acquisirla. Bisogna acquisirla. Pallina! Vai! E ultima domanda. Cosa significa per un manager gestire un team e qual è il modo migliore? Essere capaci di trasmettere passione, motivazione anche al tuo team, io penso che sia un valore aggiunto. E legato a questo c'è l'aspetto culturale, anche la cultura aziendale. Si va al lavoro non per fare transazioni dietro a un pc, bisogna veramente dimostrare al team cosa c'è dietro. Dietro c'è un'industria che deve soddisfare bisogni, che deve aiutare un cliente, quindi bisogna proprio trasmettere al team. Quello che un po' è il goal, il purpose diciamo. Questo è l'ultimo goal, quando il bar diceva allora andate a casa, sì o no? Io chiudo gli occhi e penso di essere negli anni migliori, dove il gioco è l'unica attività. Goal! Grande paolo! Ed è game over! La vera sfida è affrontare le sfide. Come si vince la sfida più importante nel tuo campo? Nel mio campo bisogna lavorare insieme. Nel mio campo, con i social e con l'accesso ormai a tutte le informazioni e i content creator, si dice così, che ormai proliferano ovunque, credo che la sfida si vinca dimostrando che la verifica della notizia ancora sia importante. Io adesso non ho fatto. La sfida più importante adesso per noi è capire che il mercato è il nostro termometro di performance. Dobbiamo capire cosa vogliono i nostri clienti, i nostri candidati. Ciao! Ci schermo al buco perché... La vera sfida è affrontare le sfide. Out of the box oggi significa rompere le regole o stare negli schemi. Lo scopriremo nella prossima puntata di The Match. Vi aspetto! 2 Mia! 2 Mia! 2 Mia! 2 3